Affinché fossero conosciuti. La redazione ne ha curato l'assemblamento e come decisione del direttore di tutti noi abbiamo voluto lasciare gli appunti esattamente come erano. Infatti in molti casi troverete delle freccette, delle piccole indicazioni, perché non ce la siamo assolutamente sentita di alterare in nessun modo questa eredità preziosa che il giudice ci ha lasciato. È un libro che noi abbiamo editato nella prima volta nel 2003 e che veramente ogni volta che lo si sfoglia si rimane impressionati. Si rimane impressionati per l'attualità, non tanto per i principi che il giudice Borsellino incarnava e che il sindaco benissimo ha illustrato prima. Perché essendo valori universali che lui era riuscito veramente a rendere vivi attraverso il suo esempio e la sua opera sono immutabili ed eterni e quindi è ovvio che siano attuali. Ma invece proprio per gli argomenti specifici che questo libro tratta. Sfogliandolo semplicemente anche solo nei titoli delle conferenze e dei suoi interventi che abbracciano un arco di tempo che va dal 1984 fino al 1992, fino al discorso che fece per ricordare il sacrificio del suo amico fraterno Giovanni Falcone, noi leggiamo del traffico di droga, del lavoro, del problema generale della lotta alla mafia, del ruolo del pubblico ministero, della separazione delle carriere, del ruolo dei pentiti, dell'indagine antimafia, del riciclaggio, che come sapete continuano a essere un motivo costante ogni volta che si sente parlare di mafia e di lotta alla mafia. E ai noi sono temi che poneva Paolo Borsellino e che sono tuttora irrisolti. Quindi questa è la prima riflessione amara che siamo costretti a fare. La nostra opinione dopo qualche anno che ci dedichiamo a questa tematica è che il ver motivo per cui questi nodi non sono stati risolti è perché non c'è stata una volontà seria, innanzitutto da parte della politica. Perché nessun governo di nessuna delle due, tre, quattro compagini dall'estrema sinistra all'estrema destra, destra, sinistra e centro ha mai messo la lotta alla mafia come punto prioritario nell'agenda operativa. E il risultato purtroppo si vede. Soprattutto si è continuato a lasciare alla magistratura, in primis alle forze dell'ordine, questa delega nell'esporsi, nell'affrontare questo cancro, questo problema. E tutti noi, anche da parte dei giornalisti, abbiamo, diciamo, la maggior parte dei giornalisti ha questa tendenza che solo quando il magistrato si è esposto e ha individuato il reato allora se ne parla, allora se ne scrive. Così anche gli imprenditori si denuncia dopo che la magistratura ha individuato il reato. Ecco, questo non ha fatto crescere il nostro paese. Paolo Borsellino l'ha spiegato mille volte, il libro è permeato di questo concetto. La lotta alla mafia non è una lotta fatta di guardie e ladri, non è una lotta che si può delegare all'azione repressiva. Era, ed è, richiede un cambiamento morale e spirituale, sono le sue parole. Però va anche detto una cosa molto importante che invece è una nota positiva. che se è vero che il nostro paese ancora non ha raccolto appieno l'eredità di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, del generale della Chiesa e potremmo fare un elenco infinito di Piola Torre, è vero invece che il loro sacrificio, il sacrificio di questi uomini e degli agenti della scorta, io so che ci tiene Salvatore a nominare uno per uno i ragazzi che sono morti con il dottore Borsellino, quindi non lo farò, perché so che lo farai tu, con la giusta importanza. Dicevo, tutti questi uomini che sono morti comunque hanno disseminato il loro valore nel nostro paese. Oggi, stasera è una serata stupenda, siamo a Sant'Elpidio Mare, io penso che fino a dieci anni fa mai ci si sarebbe sognati, quindici anni fa, di fare una serata, ricordo di Paolo Borsellino, mai ci saremmo tutti riuniti stasera ad accogliere con il caloroso applauso che abbiamo sentito prima suo fratello, mai ci sarebbe stata nel paese questa voglia di legalità, questo sentimento di pulizia, soprattutto questa rivolta pulita dei giovani che chiedono veramente dei segnali di cambiamento e di discontinuità forti, quindi se da una parte il lavoro è tutto in salita e lo va preteso dall'altra, va detto che il sacrificio di questi uomini, almeno per quanto riguarda la sensibilità della società civile, ha segnato sicuramente dei passi avanti. Allora, la domanda chiaramente che rivolgo al direttore di Antimafia 2000 per primo, è perché secondo lui non... innanzitutto se vuole raccontarci un po' come è nato questo libro, perché secondo te la politica non ha mai messo la lotta alla mafia come priorità, le istituzioni in generale, sto dicendo, la politica e poi volevo sapere, visto le recenti notizie di attualità che riguardano per esempio le deposizioni di Massimo Cencimino, perché è così importante oggi, in particolare, alla luce di queste nuove risultanze processuali, parlare della strage di Via D'Amelio e capire il significato vero e reale di questo evento delituoso che ha segnato una svolta decisiva nella storia del nostro Paese. Intanto ringrazio tutti e soprattutto il nostro sindaco che si sentiva l'emozione calorosa di quello che tutti noi sentiamo in questa città come in altre città d'Italia ad accogliere una persona amabile come Salvatore Borsellino. Io sono anche meravigliato positivamente della presenza così vasta del nostro pubblico qui della città. Il libro è nato perché il destino, io sono credente quindi mi devi lasciare dire Dio, ha voluto che mi incontrassi con questa famiglia, la famiglia Borsellino e non lo so forse immeritatamente però mi sento onorato e orgoglioso di essere amico di Manfredi del figliolo, di Salvatore lo zio, della signora Agnese Borsellino che è la moglie e quindi entrando a casa di Manfredi, quindi della famiglia Borsellino a Palermo, in un modo molto riservato, sebbene io sono una persona un po' conosciuta per altre vicende più personali di natura spirituale che tutti sanno più o meno di che cosa si tratta. Ho sempre mantenuto nella riservatezza, primo perché avere questo merito di conoscere questa famiglia e sbandierarlo sarebbe stato una mancanza di rispetto. Secondo perché sono fatto così, insomma, queste amicizie così preziose vanno tenute nella forma più riservata possibile. È diventata pubblica questa cosa che io sono amico della famiglia Borsellino perché il destino ci ha fatto incontrare avendo avuto questo desiderio, che tu sai bene che per me è anche una missione, di fare qualcosa per la mia terra nativa, io sono siciliano sebbene vivo qui nelle Marche e ci sto bene da più di trent'anni, di fare qualcosa per la mia terra e cosa si può fare per la terra dove sei nato e in questo caso la Sicilia? Qualche cosa che dia un contributo alla lotta contro la mafia perché il problema più grave per tutta l'Italia, attenzione, non solo per la Sicilia e sono le organizzazioni criminali, chiamiamola Cosa Nostra, Andrangheta, Sagra Colonna Unita, Camorra e quant'altro. Quindi con Antimafia 2000 conosco a Manfredi il figliolo di Paolo e quindi lui apprezza molto il nostro lavoro perché è sincero ed è anche con coraggio.